Un'abitazione trasformata in un emporio della droga, l'ha scoperta la polizia di Gela, arrestato da un ragazzo di 32 anni, sequestrati dosi di stupefacente e soldi. E il bilancio dell'azione eseguita dagli agenti del commissariato, diretti da Francesco Marino, l'abitazione sorge nei pressi della provinciale per Butera. Le manette sono scattate ai polsi di Baldassarre e Nicosia, già finito nell'occhio del ciclone giudiziario anni e dietro per simili precedenti. Nel corso della prequisizione, effettuata mediante l'ausilio dell'unità cinofila ASCO, appartenente alla sezione cinofili della questura di Palermo, sono stati rinvenuti 40 grammi circa di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il taglio dello stupefacente. Nicosia aveva la disponibilità di 7.500 euro circa in banconote di vario taglio, molto probabilmente frutto dell'attività illecita di spaccio. Rinvenuti inoltre due scanner rilevatori di apparecchiature elettroniche al fine di bonificare gli ambienti e mezzi per eludere eventuali indagini. All'interno del suo appartamento, il 32enne, aveva anche un pitbull per scoraggiare eventuali controlli. Grazie però all'abilità del cane antidroga, la polizia è riuscita a scovare nella cavità di un mobile antico tutto il materiale adesso sequestrato. La procura ha disposto i domiciliari per il giovane. Abbiamo individuato una centrale di spaccio non indifferente perché capite bene che detenere quasi 40 grammi di cocaina in un colpo solo e soprattutto avere a disposizione circa 7.000 euro in banconote di vario taglio si capisce che c'è una piazza di spaccio di un certo livello gestita peraltro da un soggetto con precedenti specifici e anche nel regime di detenzione domiciliare, pertanto significa che questa misura non ha assolutamente sortito l'effetto sparato bensì lo ha anche per certi aspetti agevolato nella commissione di questa attività criminale. C'è una presenza così consistente di droga vuol dire che c'è una richiesta? 7.000 euro in contante sono una cifra a del poco notevole e sicuramente parte di questa serviva per pagare lo stupefacente che ancora doveva essere spacciato e più della metà era il guadagno delle partite precedenti perché ripeto 40 grammi di cocaina hanno un valore di mercato non indifferente. Nel corso del controllo antidroga sempre la polizia ha eseguito un'ispezione presso l'istituto scolastico Luigi Sturzo ed indirizzo alberghiero di via Mozart. Grazie alla sinergia con la direzione della scuola al fine di monitorare l'eventuale presenza ed uso di droga tra gli alunni il controllo ha interessato i locali comuni, le classi e gli spazi esterni adiecenti al plesso scolastico. Non è stata rilevata la presenza di sostanze superfacenti.